Bissa l'oro la bellissima Simona Quadarella Agli europei di nuoto in corso infatti a Glasgow nel Regno Unito Dopo gli 800 con record italiano con relativa medaglia d'oro La bella azzurra bissa il risultato anche nel titolo De 1500 stile libero andando a chiudere in 15, 51 e 61 La ragazza romana di soli 19 anni d'età non le manda a dire Ma si impone in maniera completa con il tempo di 15, 51 e 61 Dinnanzi a Sara Kohler e all'ungherese Haina Kesley Quadarella dunque è la prima italiana a vincere ben due ori individuali nella stessa edizione Bissando il risultato già portato in vittoria nel primo caso Dopo l'oro di Simona Quadarella nel 1500 si è libero Arriva anche la medaglia però di bronzo di Carlotta Zofkova Scusatevi Carlotta Zofkova nei 100 stile d'orso con il tempo di 59 e 61 L'oro va la russa Anastasia Fesikova L'argento per la inglese Georgia Davis Quinto posto invece per la bella azzurra quindi italiana Margherita Pansiera Vi ringrazio per la visione complimenti alla bella Simona Quadarella Ma complimenti anche a diciamo così Tutte le persone di cui poc'anzi ho parlato Nuotatrici perché secondo me il nuoto è uno sport difficile e molto stancante Un salutone al prossimo video Grazie a tutti